Si è tenuto un incontro al Ministero delle Infrastrutture sulle priorità regionali inerenti a strade e ferrovie. Le attenzioni sono puntate anche sulla Gela-Casselvetrano e sul completamento della Nord-Sud, dal Santo Stefano di Camastra a Gela. Presenti l'assessore regionale Alessandro Eriko, il dirigente generale del Dipartimento, Salvo Lizio, e i vertici di rete ferroviare italiane di Anas. Continuo, ha detto Eriko, il dialogo con il Governo centrale per lo sviluppo e la modernamento complessivo della mobilità sull'isola. In tema di strade, l'esponente del Governo Schifani ha illustrato le priorità legate alla viabilità secondaria, quindi strade provinciali, ai tratti autostradali in gestione al Consorzio Autostrade Siciliane e alle strade di importanza regionale, e in particolare la Intervalliva, che collega Barcellona Pozzo di Gotto e Giardini Naxos, la Pedemontana di Palermo, la cui progettazione è stata affidata ad Anas, la Gela-Casselvetrano e il completamento della Nord-Sud, da Santo Stefano di Camastra a Gela. Abbiamo chiesto anche, precisa Eriko, un'accelerazione dei lavori che interessano la Palermo Agrigento, in considerazione della importantissima designazione della città dei Templi a Capitale Italiana della Cultura del 2025. Non ci faremo trovare impreparati. Per quanto riguarda invece il versante ferroviario, la Regione ha rimarcato l'importanza di completare il tracciato dell'anello regionale e di lavorare all'ammodernamento e alla velocizzazione delle tratte, ribadendo la necessità di migliorare l'offerta di trasporto intermodale tra i principali aeroporti dell'isola, nello specifico tra Punta Raisi e Fontana Rossa e tra Punta Raisi e Birgi.